eh confronto come di tranquillizzo Francesco Caruso che sono ancora dalla parte giusta del mondo insomma sembra al sud e no intanto come dire vorrei interloquire con tante le cose che sono state dette in questi giorni eh la prima cosa secondo me è capire sempre da che punto partiamo no dove siamo io penso che ci troviamo in una condizione oggettiva di transizione geopolitica economica ambientale e quindi di grande crisi sociale e in una situazione soggettiva di sconfitta no eh con l'inesistenza della nostra struttura organizzazione di massa e quindi anche l'inesistenza attualmente di ideologie rappresentazioni capacità di massa di insomma intervenire e contrastare le grandi narrazioni una cosa interessante una cosa che diceva Francesco pure prima no nel senso che c'è tutta una generazione che vive questa fase eh con eco ansia cioè la prospettiva per un'intera generazione è quella della fine con l'assenza di una prospettiva politica di trasformazione gran parte delle distopie anche eh nel mondo del cinema e delle serie ci restituiscono un'immagine di una fine eh quasi inevitabile che in realtà poi in maniera molto più eh realistica probabilmente porterà ad un peggioramento eh diffuso delle condizioni di vita ma a diseguaglianze enormi in cui perfino la possibilità di un territorio abitabile vivibile nella crisi climatica diverrà una cosa per pochi. Io quindi vorrei provare a dividere il mio intervento una parte e su quello che dovremmo fare nel lungo periodo no? Nel senso che spesso volentieri noi parliamo della necessità di ricostruzione di comunità politica e la comunità politica noi non la costruiamo nel breve periodo. Abbiamo un tema enorme che è il tema dell'organizzazione politica in questa fase di frammentazione sociale di scomparsa soggettiva della comunità del lavoro ovviamente non oggettiva ma nella capacità di organizzazione di rappresentarsi di auto rappresentarsi e questo ci interroga su come nel lungo periodo noi ricostruiamo un blocco storico che secondo me tiene assieme la necessità eh diciamo del conflitto e quindi di una lotta che eh di di posizione ricostruisce nuove forme di socialità all'interno del del quadro attuale. Io non mi soffermerò molto su questo preferisco andare però con lo sul breve periodo perché a me sembra che spesso e volentieri riemerge una sorta di conflitto tra due dimensioni che per quanto difficili devono stare assieme. La prima è quello abbiamo detto della comunità politica che esige eh tempi lunghi esige la ricostruzione di un pensiero e di alternative che probabilmente oggi eh non sappiamo sistematizzare che individuiamo che percepiamo una proposta completa che sia capace di costruire identità e e comunità politica. All'altra parte la rilevanza istituzionale nel senso che le due cose stanno assieme. Una rilevanza istituzionale evidentemente utilizzata per rompere e non per rinsaltare eh il sistema. E io penso che rispetto a questo la discussione che c'è stata sul populismo sì sul populismo no si è interessata. Intanto perché secondo me se partiamo dal tema della sconfitta dobbiamo magari pensare che come diceva Gramsci c'era una diciamo una diversità tra occidente e oriente eh basata sul ruolo della società civile e quindi sul ruolo anche sulle modalità della battaglia politica. Nell'oriente di cui ci parlava Gramsci per cui la forma di rivoluzione era diversa era possibile una guerra di movimenti perché la società era sostanzialmente civile senza corpi di intermedi. Nell'occidente invece la l'entrata delle masse in politica l'esistenza dei corpi intermedi ci permetteva eh ci diciamo necessitava una guerra di posizione. Io penso che noi dobbiamo dobbiamo assumere che noi siamo in una fase tra virgolette diciamo in cui ritorniamo ad essere un oriente in cui non ci sono corpi intermedi in cui spesso e volentieri la lotta politica è una lotta di buonapartismo, populismi, personalismi, populismo non si riduce ovviamente al tema del neoliberismo ma senza corpi intermedi. Per cui noi siamo in quella situazione in cui grandi trasformazioni del quadro istituzionale e politico non sociale perché poi da quel punto di vista abbiamo visto che anche le forze che arrivano ad avere un grande consenso nel breve periodo al governo subiscono eh il contraccolpo e la resistenza del sistema come è successo al momento cinque stelle ma questo sistema il neoliberismo che in questi anni ha depolitizzato ha distrutto le forme di intermediazione ma soprattutto ha alimentato una disponibilità al cambiamento radicale che si manifesta in forme evidentemente eh non ideologicamente coerenti partendo da tre promesse che il neoliberismo aveva fatto e che non riesce a mantenere democrazia sicurezza materiale inteso se studi se investi in te stesso poi ci sarà un ritorno e quindi benessere questa cosa danni produce eh diciamo all'interno di un contesto istituzionale postdemocratico in cui voti forze diverse ma vincono sempre gli stessi poteri che tu voti a destra o a sinistra allora io penso che in realtà quello che aveva rappresentato il movimento cinque stelle è una nuova frattura che esiste nei nostri sistemi che ci parla della crisi democratica e che è sostanzialmente cerca all'interno attualmente del panorama un interprete di due questioni fondamentali uno come si ricostruisce una connessione tra la politica e la vita reale perché non esiste oggi una rappresentanza dei bisogni della maggioranza sociale italiana abbiamo un vincolo di un vincolo di mandato tra la rappresentanza e gli interessi dell'elite che si voti a destra o che si voti a sinistra oggi è naturale passare diciamo da un gruppo parlamentare all'altro da un partito all'altro nell'interesse di specifici come dire poteri che non sono quelli popolari tutto il pezzo che offriva il movimento cinque stelle su delle misure tra virgolette giacobine di controllo alla classe politica e di eh decisione diretta della classe politica io penso che vadano recuperati io penso lo dico chiaramente che una certa livello di antipolitica oggi è la manifestazione deideologizzata della critica alla post democrazia che c'è nella società quando le persone se oggi noi proponiamo un vincolo di mandato che secondo me per quanto pericoloso oggi serve cioè che se ti votano con un partito tendenzialmente dovresti stare con quello mi rendo conto che lo facciamo eh c'è tutta una discussione ampia lo so però partendo da un fatto che la democrazia per come la conoscevamo non c'è più e c'è una democrazia oligartica in cui qualsiasi geometria parlamentare ignora il voto popolare e come dire eh rinsalda gli interessi dell'elite io penso che una prima parte di una proposta oggi che ambisce ad essere maggioritaria deve aspirare a ricostruire delle forme di controllo sulla classe politica e delle forme diciamo di democrazia diretta e su queste rifaccio l'esempio e ripeto secondo me la nostra forza politica dovrebbe riproporre un vincolo di mandato ferro tra i solo un minuto ancora e poi passare parola arrivo alla conclusione al vincolo di mandato l'altra parte e l'altra la parte diciamo delle proposte materiali quindi si è già detto tanto sulla necessità eh di un salario minimo di un reddito ma anche di una funzione diversa del pubblico sia nella nella quantità che nella qualità non si governa la transizione ecologica senza un potere pubblico forte che programma la transizione ecologica che programma la transizione industriale questi due elementi sono a mio parere e due due diciamo degli assi per cui una forza oggi e quindi è populista non solo perché ha una leadership forte ripeto siamo molto più simili al sudamerica di quando pensiamo probabilmente lo siamo di meno nella capacità che hanno avuto quei governi di teorizzarsi come colonizzati perché ancora noi dal punto di vista internazionale questa cosa non abbiamo messa a frutto ma dall'altra parte inquadrare la crisi democratica eh in termini diciamo di proposte di democrazia diretta e di controllo alla classe politica e dall'altra parte proposte radicali eh materiali io penso che su questo ripeto si possa aprire istituzionalmente una partita che poi va complementata con un lavoro di lungo periodo di costruzione della comunità politica perché abbiamo visto che paradossalmente si può arrivare al governo molto facilmente come abbiamo visto in Spagna abbiamo visto in Italia con il 5 stelle ma è molto più difficile poi affrontare la sfida del governo in delle istituzioni che dal locale al nazionale sono state eh trasformate dal neoliberismo per impedire stato sociale interessi collettivi e così via. Grazie mille. Eh ancora. Grazie.